C'è enorme soddisfazione perché c'è un lavoro durissimo dietro, ci sono responsabilità che ci siamo assunti, gratitudine a chi ha lavorato a questo accordo come comune, come azienda e come sindacati, hanno firmato tutte le sigle sindacali, continuiamo nonostante l'assedio normativo e finanziario ad essere l'unica grande città d'Italia a non aver messo sul mercato l'azienda pubblica, ma con questo accordo e con le azioni che mettiamo in campo non c'è solo una sopravvivenza ma un grande rilancio, azienda pubblica, garanzia dei diritti dei lavoratori, piano industriale, mai più inefficienze, innalzamento della qualità dei servizi, lotta all'evasione, se non fossimo accerchiati da un punto di vista normativo e finanziario questa città si troverebbe adesso in altissimo decollo, ci auguriamo che dalla manovra economica tra governo e Parlamento finalmente finisca questa ingiustizia che non è più sopportabile, che noi non possiamo più agire, siamo accerchiati e circondati nonostante tutti ci riconoscono che è una città che ha fatto passi in avanti giganteschi, senza soldi, con un debito ereditato impressionante, con quasi tutte le aziende del nostro comune in situazione di pre-default, con una rinascita culturale e turistica, con un'attrattiva economica, con investimenti che aumentano, il Ministro del Rio che dice che siamo una realtà più dinamica d'Italia però non ce la facciamo più ad avere piombo sulle ali e palle di ferro al piede per non farci decollare, è un'ingiustizia davvero clamorosa e siccome credo alle parole, voglio credere alle parole dei più autorevoli esponenti di questo governo per le cariche che ricoprono che finalmente ci sia, e anche gli impegni presi da diversi esponenti delle forze parlamentari, che ci sia finalmente un cambio di lotta nei confronti dei comuni, ovviamente di Napoli e di tutte le città che stanno vivendo delle ingiustizie non più sopportabili, ma questo lo facciamo nell'esclusivo interesse, non personale, ma dei nostri cittadini siamo l'altoparlante dei bisogni e la gran cassa dei diritti soppressi degli abitanti dei nostri territori.